L'infausto finale di stagione che ha coinvolto il Castelnuovo in Serie D ha generato un doloroso effetto a catena che ha scombussolato anche la stagione di diverse formazioni di eccellenza tornate pericolosamente in ballo per ridiscutere la loro permanenza nella categoria più importante del calcio dilettantistico regionale. La Virtus Cupello è una di queste e a distanza di diverse settimane dal termine della stagione regolare è costretta a riaccendere i motori per intraprendere un drammatico scontro fratricida con i quasi dilimpettai del Casal Bordino nella semifinale play-out che va in scena al comunale. Se i giallorossi del patron Santoro erano ormai consapevoli e già immedesimati nell'epilogo stagionale i rosso-blu di Carlucci non avevano messo in preventivo questo scenario anche se era da prendere in seria considerazione ma anche un eventuale successo di una delle due belligeranti odierne non scongiurerebbe gli incubi peggiori a quella che uscirebbe col sorriso tra le labbra che dovrebbe comunque giocarsi le fiche decisive alla successiva roulette con la vincente dell'altro spareggio che mette di fronte spoltore e penne. Il Casal Bordino ancora privo dell'infortunato della penna non è brillante come in tante altre occasioni e rischia nelle fasi d'avvio della contesa dapprima sull'aggancio di Conti a ridosso del secondo palo che spedisce sopra la trasversale da due passi e poco dopo con il diagonale ravvicinato di Donatelli deviato in corner dalla provvidenziale chiusura di Campanella. Troiano imperversa sulla dorsale mancina e poco dopo offre un succulento invito a centroarea per Conti che arriva in leggerissimo ritardo e non può intervenire per l'eventuale tap-in vincente. L'importanza della posta in palio è palpabile anche in mezzo al campo e in particolare al minuto 24 quando il direttore di gara ha il suo bel da fare per sedare una maxirissa che coinvolge molti dei protagonisti sul rettangolo verde. Il gioco rimane fermo per oltre otto minuti e alla fine il signor Marchetti dell'Aquila partorisce un paio di cartellini rossi equamente distribuiti ed indirizzati al cupellese Caniglia e al casalese Bonasia. La gara torna nei binari della normalità e la Virtus prova a rompere l'indugi nelle fasi che conducono all'intervallo. Poco oltre la mezz'ora è il palo che si oppone alla stoccata dal vertice d'area di Nicolo Margagliotti con quest'ultimo che al quarantesimo è ottimo suggeritore per Conti che sciupa una colossale opportunità da posizione estremamente propizia. I fuochi d'artificio della ripresa saranno concentrati nei primi 20 minuti di gioco. Al sesto l'Alic preserva la propria inviolabilità opponendosi al guizzo ravvicinato di Tafili. Al dodicesimo registriamo il cartellino rosso indirizzato al tecnico in seconda del Casalbordino Benedetti e due minuti dopo va in scena l'episodio che decide la sfida. Conti verticalizza per Colitto pronto a servire dalla destra l'appostato Nicolo Margagliotti che non si fa pregare più di tanto per calciare in porta con la fortuita deviazione di Ciafardini che contribuisce a mettere fuori causa l'estremo giallo-rosso e a far esplodere il tifo di fede rosso-blu. La reazione del Casalbordino si limita a Conti fatti alla giocata di Regner altrimenti impalpabile e ampiamente al di sotto dei suoi standard qualitativi ma la sfera si alza sul fondo e per la truppa del patron Santoro si schiude il baratro dell'amara retrocessione ride a denti stretti la Virtus Cupello che non ha ancora chiuso il suo percorso riabilitativo che passa attraverso l'ulteriore spareggio salvezza da disputare con lo spoltore uscito indenne dall'altra semifinale play-out col penne ma qualificato in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Panfilo Carlucci nessuno o quasi si aspettava di dover arrivare quasi a metà giugno per continuare a giocare quasi un mese di pausa alla fine questo primo atto è andato per il verso giusto ma non è ancora finita. No no non è finita nulla oggi abbiamo fatto la prima partita contro una delle squadre più forti del girone di ritorno quindi vale ancora di più questa vittoria perché abbiamo incontrato una squadra che ha mantenuto la media delle prime 3-4 del nostro campionato si sa che al giorno di ritorno c'è un altro campionato e noi siamo arrivati un po' corti al finale di campionato che ci ha portato a disputare questi play-out penso che siano 7-8 anni che la sesta ultima non fa i play-out purtroppo noi con la testa eravamo un po' in vacanza un mese fa ci siamo dovuti rimettere sotto e non è stato facile preparare questa partita contro una squadra che già sapeva Mister Luigi Di Simone sembra strano ma lo conosciamo già da diversi mesi ma purtroppo è la prima e forse unica volta almeno in questi Lidi in cui abbiamo la possibilità di intervistarlo c'era stato un silenzio stampa più che altro lo possiamo dire adesso scaramantico non perché il Casalbordino fosse contrario ai medi anzi tutt'altro siete stati protagonisti di un eccelso girone di ritorno però è mancata la ciliegina su questa torta ma intanto io vorrei partire dai 9 punti dalla seconda giornata di ritorno questa è una squadra che in 15 partiti ha totalizzato 26 punti ovviamente ci credevamo tutti però purtroppo il calcio è così quando sei costretto a rincorrere sempre anche oggi avevi solo un risultato a disposizione però purtroppo il calcio è così ma io sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno avuto il coraggio di accettare una situazione quasi spacciata quindi bisogna dare atto bisogna dare merito a questi ragazzi che ci hanno creduto che hanno lottato sempre tutte le partite voglio ringraziare il presidente il nostro patron Alessandro Santoro perché non era facile non era da tutti in una situazione di classifica ribaltare tutto ci ha messo impegno ci ha messo voglia e lui ha lottato sicuramente il verdetto sul campo dice che siamo retrocessi ma io penso che lui ha vinto perché non era per niente semplice non penso quante persone farebbero una cosa del genere ringrazio il direttore Pino De Filippis che è riuscito a portare 15-16 giocatori con una squadra a 9 punti giocatori importanti lavorando 24 ore su 24 ovviamente c'è il rammarico c'è delusione però io sono soddisfatto di questi ragazzi di questa società che mi ha messo a disposizione tutto e quindi io li ringrazierò sempre per l'opportunità che mi hanno dato